Benvenuti sul sito internet del seminario Robert Osella. Questo sito è dedicato alla promozione dell'arte urbana nei termini di definizione del seminario. La pagina di introduzione presenta la lettera di informazione Art Urban Info. Nella prima parte del menu, quattro manifestazioni pubbliche, rispettivamente. L'assemblea generale e il bilancio. Con la presentazione del tema annuale prescelto in articolazione con le politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile. Il concorso internazionale. Il concorso internazionale presenta i progetti vincitori dei team di studenti e di docenti dei paesi partecipanti sul tema annuale. Gli incontri. Gli incontri con le organizzazioni professionali nazionali, la rivista Urbanism, riguardanti l'etica del rispetto del contesto e la deontologia delle professioni. Il premio nazionale. Il premio nazionale riunisce i sindaci, i professionisti progettisti e la committenza per presentare delle operazioni di progettazione urbana esemplari. Le borse Art Urbain vengono assegnate ai migliori progetti di laurea del ciclo master. Nella seconda parte, l'insegnamento a distanza permette di sensibilizzare gli studenti e di informare il pubblico circa. Robert Oselle. La sua vita, le sue opere. Gli artisti dell'arte urbana. Il vocabolario francese dell'arte urbana, i cui termini sono utili per parlare dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ambiente. La e-attitude Art Urbain, che raggruppa i video pedagogici. Le pubblicazioni e gli articoli su Art Urbain. In conclusione, il seminario Robert Oselle vi augura di poter condividere le vostre domande e la vostra curiosità per gli aspetti concreti del miglioramento del contesto di vita. Per sostenere e partecipare alle nostre attività, aderite al seminario Robert Oselle. Grazie.